E benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video, io sono Benz e oggi siamo qui tornati con il sesto episodio della serie, del let's play di Assassin's Creed Origine Nello scorso episodio abbiamo salvato una sorta di ubriacone da una specie di faida un po' particolare che si era venuta a creare tra sua moglie e fratelli della moglie, tipo dei truffatori Non lo so, non ho ben capito effettivamente cosa sia successo Allora spero che questa serie vi stia piacendo, ho intenzione magari invece di fare tutto quanto un unico e magari può essere anche noioso vedere sempre e solo la stessa fisologia di video Di portare anche degli altri contenuti, adesso vediamo Siamo alla seconda settimana di video continui che sto facendo Ah e per chi non l'avesse ancora capito, ovviamente i video escono come avete potuto notare da adesso in poi Cerco di mantenere questa scaletta, ovvero lunedì, mercoledì e venerdì alle 15 uscirà un video Non c'è ancora effettivamente cosa porterò perché ovviamente non ve lo posso dire Adesso in questo periodo porterò Assassin's Creed Origine Però comunque andando avanti cambieranno ovviamente i titoli perché Assassin's Creed Origine non durerà all'infinito, è ovvio Contate che adesso Play mi segna che siamo al 10% del lavoro Quindi comunque penso dovrei accorciare il numero degli episodi Cioè nel senso mettere solo gli episodi fondamentali però comunque avrà una serie abbastanza lunga Ma comunque questo è un altro discorso Quindi ricapitolando la scaletta sarà lunedì, mercoledì e venerdì alle 15 video Mentre la domenica sarà alle 13.30 E ovviamente questo qua è ripetizione Quindi ci saranno due video consecutivi che saranno la domenica e il lunedì Quindi sarà lunedì, mercoledì, venerdì e domenica e poi si riprenderà dal lunedì Allora comunque fatta questa premessa vediamo un attimo Abbiamo agguato al tempio che è un'altra missione da fare Quindi direi di farla immediatamente Allora L'abilità portatore di archi Ma comunque Ah abbiamo due punti abilità che direi immediatamente di farli dato che ci siamo Su un cadavere Beh ok questo non mi sembra un granché Allora Passo guadagno il 25% in più dalla vendita di parti di animali Non mi sembra un granché L'orbigo cavalcatur Questa potrebbe essere molto utile Questa è molto utile Ovvero che possiamo rubare il cavallo o il mezzo di trasporto di un altro nemico La parata per disarcionare anche questo può tornarci molto utile Questo qua l'avevamo già fatto In realtà lo posso già fare però non lo so Forse aumenta l'efficacia non ho idea A recuperare le frecce questo non mi interessa per il core Questo qua l'XP Potrebbe esserci utile effettivamente Direi questo qua è molto utile Ci può tornare utile per se è di livello in fretta Quindi lo prendiamo E direi di prendere l'attacco pesante Perché Sì 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 Ok Perfetto Detto questo Ah eccola qui Questo qua è il portatore di archi per avere il doppio slot Ok comunque Mi ha sbloccato quelle due abilità E direi di andare immediatamente a fare quella missione Cioè effettivamente adesso mi ha fatto sbloccare l'attacco pesante Per prima non so allora effettivamente cosa mi facesse fare Comunque Siamo già arrivati Ok Andiamo E vediamo cosa ci dice Sì 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 grazia mi ha nominato suo secondo è il mio rango non è la sola cosa ad essere cambiata dovresti vedere com'è il tempio mi porterai a fare un giro ma certo ma certo ti ci porto quando vuoi ok mi fanno fare un giro guarda qua il mercato è pieno di truffatori e tu mi dici che non puoi farci niente gli affari del mercato non mi riguardano dovresti parlare al mercante responsabile sacerdote sei più falso delle tue mummie ma i tuoi figli sono al sicuro a casa ti ringrazio cosa voleva da te quello dei visitatori che hanno comprato oggetti sacri si lamentano quando il villaggio non ha più gatti morti da vendere non sono un mercante ma spesso finisco per essere il bersaglio della loro rabbia bisogna mettere fine a questa storia ok fatta questa missione non vabbè dai ve la metterò comunque dai era carina era veloce aiuto allora abilità abbiamo appena tutta un punto abilità direi di sbloccare subito qualcosa allora vabbè le bombe incendiarie per il momento non del tutto allora qua potremmo avere due archi potrebbe tornarci utile oddio questa è molto carina in pratica con seno posso andare là e dargli fastidio per fare gli attacchi furtivi ragazzi ha due punti abilità per sta roba poi è eva allora questa qua sicuramente no quasi quasi questa allora oppure di qua cosa c'è allora io direi di fare questo mi sembra quello più interessante c'è questo qua purtroppo mi sa voglio due punti abilità ragazzi sono tante intanto direi di prendere questo mi sembra la cosa più interessante ok allora abbiamo fatto questo direi di andare a fare anche quest'altra missione oggi ci occupiamo del tutto di mercanti raggiungo il posto e ci vediamo ah ragazzi ovviamente vi porto anche questi video perché non è che tutti i video possono essere video di combattimento ovviamente Assassin's Creed non è solo combattimento questo spero l'ho capiato qualcuno può aiutarmi qualcuno sembra opera di un bambino questi gatti mummificati sono falsi allora dobbiamo indagare no non c'è altro che panno sei venuto nel posto giusto qui troverai tutto quello che stai cercando sto cercando informazioni sugli idoli falsi venduti al mercato ne ho sentito parlare ma non c'è niente di vero ora vattene se non vuoi finire in grossi guai ok qua mi stai dando un po' di mafia parlami delle mummie finte in vendita non voglio farmi trascinare in questa storia mi manda Menehead col tuo silenzio insulti il suo sacro compito non voglio far adirare né lui né gli dèi dobbiamo vendere merce di scarsa qualità o perderemo i nostri banchi per conto di chi non posso parlare qui vediamoci stasera dove il villaggio lascia il posto ai campi interessante allora ok io ragazzi raggiungerei la fattoria poi dato che avevamo sbloccato con l'abilità quella della meditazione direi di provare a utilizzarla non so come si utilizzi adesso dovrò guardare quindi raggiungo la fattoria e ci mettiamo un attimo a meditare ecco fatto allora tenere premuto M me lo dice già da lui perché era l'abilità appunto della meditazione che era quello che avevo sbloccato una delle prime abilità che avevo sbloccato perché penso ci potesse tornare utile e infatti ci ha tornato utile giusto adesso eccolo qui allora direi parlarvi per fortuna ti sei presentato all'appuntamento vieni siediti e beviamo un goccio di vino non ho tempo per questo è una splendida serata godiamoci l'aria fresca per un po' prima di iniziare a parlare di affari non sono qui per l'aria fresca mercante chi gestisce il traffico di idoli falsi sai ecco non è una storia semplice molti sono coinvolti in questo orribile crimine ma tutti loro ti diranno la stessa cosa compatisci chi si fida suo è il dolore più grande cerca il male e sarà sempre lui a trovare te voglio veder scorrere il tuo sangue la conoscenza è una via rischiosa oh ma c'è tre la regando in acqua ignote si rischia sempre di naufragare ma è un guerriero valoroso il peccato è che ma da fai il culo allora dato che ci siamo direi di fare un bel attacco di quegli tosti al capo lì ciao bello che una bella mezza vita l'abbiamo anche tolta e merda abbiamo guai ah ah l'ho sbagliato ciao adesso questo figlio è un po' di gran bella svaccola direi di ucciderlo forse un uomo con le tue abilità merita un po' di fiducia parla o subirai la stessa sorte dei tuoi amici non sarà affatto necessario fra le dune a sud est di qui si trova l'accampamento dei banditi che preparano le finte mummie scommetto che ora andrai a distruggerlo meglio l'accampamento che la tua testa distruggendo quei falsi potrò ottenere il favore degli vedi adesso funziona il cammellazzo funziona quando gli piace a sto cammellazzo allora facciamogli allora quindi stiamo in pratica indagando su la falsificazione di reperti cioè di reperti adesso non sono attualmente reperti perché sono cose che fanno loro ai giorni nostri sembrano reperti però comunque stiamo indagando in pratica su chi sta falsificando le mummie questo in realtà avremmo già noi abbiamo già visto guarda un po' qua dei banditi e li avevamo anche sconfitti se vi ricordavate ma a quanto pare ok c'è uno di livello 8 ok ragazzi è l'alato che stanno dormendo io direi di fare una cosa molto sensata che è quella di provare almeno a fare delle uccisioni fortive giusto un pelo allora a quanto posso vedere c'è solo un nemico sveglio che è l'unico che sta camminando quindi sembra una missione anche fin troppo semplice a dire la verità quindi dirigiamoci via con molta calma ho parlato vero? adesso ci sono svegliati sembra giusto adesso con molta calma io direi di raggiungere questo il zone ci attaccheranno a vista qui io devo fare una cosa fatta bene ma ahimè posso colpirlo ho un colpo facile posso colpire ho un colpo facile posso colpirlo? posso colpirlo? posso colpirlo? allora non so cosa non so cosa ho rubato ho un arco da guerra ok allora mettiamoci qua con calma andiamo piano piano verso la futura zona allora vediamo dove sono i nemici con l'aquilozza credo di averli già uccisi tutti a quanto vedo a quanto vedo ah dormo quindi sta dormendo quindi ragazzi direi in fretta di andare ad accolparlo sicuramente voglio di fare altri combattimenti allora abbiamo finito oh qui c'è anche un tesorino direi di prenderlo oh si ma se non ci salgo sopra forse lo posso anche deprado arco da caccia interessante nascondiglio dell'eremita ah ok devo proprio distruggere l'ho spadato e capisco oh dove è guys il fenomeno qua ciao bello ciao bello io ti conosco tu vumi canello ora me ne è tu vumi canello tu vumi canello ma che cosa bloccatelo ecco l'epa deparato chiamiamo il cavallino come here cavallino oh sei il mio cavallino amico anzi il mio camellino allora fatto questo ci dice di ritornare al tempio allora vabbè è stata una missione veramente proprio easy 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 direi di farne anche un'altra così magari faccio un video un po' un lunghetto però metto le missioni quelle più basilari diciamo perché voglio fare questo video poi dalla prossima voglio fare la missione quella che richiede il livello 10 in modo che rientriamo nelle missioni principali perché stare troppo fuori dalla storia effettiva del gioco non piacerebbe neanche a me però comunque voglio affrontare le sfide come ce le consiglio del gioco quindi in questo caso siamo arrivati al livello 8 facendo due sfide quindi si fa presto a salire per i livelli così basici mi spiace non potervi far vedere le sfide quelle nuove però purtroppo quello è allora vediamo un attimo noi adesso abbiamo acquistato quest'altro vanno giusto abbiamo tutti quanti questi archi allora questo qua sarebbe un arco epico allora vediamo un attimo archi da predatori livello 4 entrambi livello 4 no qualità 12 qualità 13 ok quest'arco è dedicato a nate la dea occulta di sass non so come si pronuncia è necessario portarlo con sé durante la festa delle lampade arco da guerra scannatore l'arco ha frecce multiple preferito dai nubiani punto ah questo qua ha frecce multiple io direi di inserire questo nel secondo slot mentre come invece dell'arco quello base in pratica beh qualità 21 cavolo questo qua che è quello ah no questo qua è quello mio selezionato abbiamo questo qui che è una qualità molto alta quindi allora a volte per ottenere ciò che si vuole basta usare lo strumento giusto questo qua mi sa che è la quello che mi ispira di più di tutti quindi direi di selezionarlo questa qua non lo so non avevo mai visto che si potesse selezionare le armi quindi adesso mi personalizzo anche un attimo questo livello 7 è la marrugginita questo qua probabilità di colpo critico questa 10 livello 2 livello 7 vediamo un atto se ci sono dei livelli più alti ah questo qua è quello che avevamo trovato noi prima però questo qua mi sa che mi rallenta troppo ma i nudi non è proprio il caso direi di fare una di queste due così così metterei anche questa che è quella che mi ispira di più 63 danni al secondo è buono cavolo è buono direi di mettere questo anche se è vero che curva serve a strappare gli scudi i nemici lasciandoli indifesi anche se metterei questo qua che è un livello 6 che mi ispira di più quindi terrei quello invece gli scudi abbiamo uno scudo di livello 6 che direi proprio di metterlo questo qua strumento che non ne abbiamo altri e invece qui servirebbero le cose per potenziarle ovviamente che io non ho gli abiti non credo di averne infatti e la cavalcatura ok è questa qua ok perfetto ora c'è un personalizzati credo che in combattimento andrò infinitamente meglio allora con le armi penso di essere messo bene voglio vedere qui cosa c'era credo sia quello che io un attimo comprare oddio questo qua è bellissimo ragazzi questo no questo è veramente bello io ce li avrei anche 2000 li comprerei anche cavolo ragazzi mi piace un tot vai vai fatta fatta questo è bello mi piace e adesso li indossiamo anche mi diceva anche di vendere ok serve tutte quante le cose da vendere ok beh queste qua ragazzi ah ok queste qua sono tutte quante le cose ok queste qua sono tutte quante le cose che io non posso utilizzare perché a me non servono quindi io le venderei tutte quante ecco vedete questa qua è una cosa che sto imparando adesso che io non sapevo ovviamente parti di animali invece anche queste qua io parti di animali non credo di poterle usare però queste qua magari li tengono si sa mai vedete l'abito l'ho pagato 2000 me lo li vende a 400 però vabbè mi sembra giusto allora direi di indossare subito il nuovo abito ragazzi che mi piace veramente tanto siamo stravegli adesso questo qua è uno strano globo ricoperto di iscrizioni questo qua è quello della cripta giusto qua ci sono le nostre cose vedi gli oggetti inutili in una bottega per 149 che vuol dire che servono tutte queste qua teorie se deduco che siano questi deduco che non servano le pelli ci servono per potenziare la carne però si vendiamola non le serve e anche questa ok vendiamo tutto quanto no esattamente facciamo cavolate abbiamo otto cose e vendiamo tutto e vendiamo tutto anche di questa ottimo veramente bene abbiamo fatto un bel po' di cose queste cose non le sapevo infatti cammello stai buono dato che c'era volevo andare anche a vedere al fab cosa c'era di nuovo potremmo andare a controllare c'è da potenziare anche da comprare una lancia non mi piace non granché arco dell'amarezza è quello che abbiamo vinto noi però le frecce di quest'arco pongono fine a battaglio non arrivo di modo suddolo scudo a livello 10 ok questo qua non so effettivamente 163 danno al secondo si potrebbe anche comprarlo invece il nostro arco che abbiamo adesso quanto ha questo qua 216 danno al secondo questo 130 effettivamente lo potremmo comprare direi direi proprio di prenderlo quindi lo acquistiamo e vendere vediamo un po' di armi che non utilizziamo direi che le possiamo venderle tutte quante ci facciamo un bel po' di soldi ragazzi per tanto le armi alla fine non le userò vediamo magari il livello 6 no no queste cose sto usando vabbè quelle di livello più basso le vende tipo queste qua vedete livello 2 livello 2 livello 1 livello 1 livello 6 così così la tengo non si sa mai livello 4 possiamo anche venderlo e gli archi di livello 1 li vende di certo non li userò mai più e vediamo il livello 8 questo qua è quello che ho appena preso questo qua è il livello 8 lo otteniamo livello 4 lo possiamo buttare via livello 3 lo possiamo buttare via livello 5 lo scannatore quello che ho incorporato adesso arco dell'occulto ed entriamo in questi due qua mi tengo questo qua di imprecisione non si sa mai equipaggiamo l'altro arco che avevo appena acquistato che era questo qui e perfetto guarda che bello però questo abito mi piace veramente tanto allora vediamo un attimo invece per potenziare vediamo un attimo cosa potremmo potenziare potrò potenziare sicuramente un arco e l'arco che volevo potenziare non si può potenziare ok allora io direi di potenziare quasi quasi la spada e andiamo a fare 100 danni al secondo che non è affatto male quindi direi di potenziarla oddio che bella questa animazione e direi ah ok abbiamo finito i potenziamenti potenzierei anche quasi quasi quest'altro arco bellissima l'animazione è veramente bella 220 danni al secondo quindi tanta tanta roba ok abbiamo finito di potenziare ragazzi abbiamo fatto veramente un bel upgrade quindi direi che purtroppo per questo episodio è beh finisco di guardate dove è andato il cammello adesso molto più stile come assassinatore andiamo a farci un bagno e cammelluccio no dai non è in caso allora vado a parlare con questo quindi dovremmo dichiarare finita questa missione e quindi vi lascio anche perché è un po' che stiamo registrando quindi prendiamo qui ah eccoti qua ho sistemato il problema delle false mummie grazie come posso alleviare le pene di un vecchio amico stasera si terrà un grande spettacolo la nostra dea Sekhmet difende il popolo dal caos di Isfeth ma Pamo il nostro campione sembra scomparso il gran sacerdote incolperà me per la sua assenza vado a cercarlo Sekhmet ti benedica abita vicino al mercato ma cercalo prima alla taverna mi addolora chiederti un altro favore a Pamo piace farsi una bevuta ok avremo in pratica un altro un'altra persona da ok signora della strage ok la prossima missione sarebbe in pratica allora questa qua ci servirà a livello 10 invece potremmo fare questa qui che sarebbe quella di trovare Pamo e conducilo al coso però siccome da tanto ragazzi che sto registrando posso dirvi che per questo episodio è tutto perché è già da 36 minuti che sto registrando è ora di chiudere vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video vi ricordo di lasciare mi piace se vi è piaciuto il video iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto noi ci vediamo presto con un nuovo episodio ciao ragazzi vi ricordo Instagram e computer in descrizione ciao ragazzi iscriviti al canale iscriviti al canale